Cari Gitarnauti, ciao, rieccoci e bentornati su Velesuono, o più che altro bentornato io visto che sono rientrato ieri sera da Los Angeles, quindi da questo lunghissimo viaggio, sia lunghissimo proprio il tragitto da Los Angeles a Milano, anche perché mi hanno pure perso i bagagli nello scalo che abbiamo fatto a Mosca, quindi è stato un po' un po' travagliato come percorso, è anche lunghissimo poi il viaggio in sé perché è stata una luna di miele di oltre due settimane, e tornato ieri sera già sono qui oggi a pensare a voi per questa puntata di Velesuono perché ci tenevo un pochino a raccontarvi un pochino appunto di questa esperienza, di questo periodo che è stato un periodo molto intenso e particolare della mia vita, allora vediamo velocemente quali sono gli argomenti di questa puntata, quindi volevo farvi vedere qualche immagine del matrimonio, del giorno del matrimonio e del viaggio di nozze perché mentre chi mi segue su Facebook ha la possibilità di vedere le foto che abbiamo postato regolarmente, su YouTube che è uno strumento per certi versi più limitato, non ho avuto la possibilità di postare delle foto, quindi ho pensato di inserirne alcune all'interno del video proprio per farvi vedere, per rendere i partecipi anche voi che mi seguite qui su YouTube, di quello che è stato, di quello che è successo. Poi vedremo le novità e i tutorial a venire che arrivano prossimamente e dopodiché il solito spazio dedicato al Claudio risponde, cioè alle risposte alle vostre domande e quindi vi invito ancora nuovamente sotto a questo video, qui sotto, lasciare i vostri commenti con le vostre domande, gentilmente che non siano sempre solo richieste di tutorial perché quelle non sono domande, ma domande che possono essere interessanti su di me, sulla chitarra, su di voi, qualunque cosa, ma che sia un pochino costruttiva e non sempre solo consigli su quale chitarra dovreste comprare perché io non lo so quale chitarra dovreste comprare, è una questione estremamente soggettiva e non sempre solo richieste di tutorial. Prima di partire però con gli argomenti che vi ho accennato, una veloce parentesi su quello che è successo ieri sera a Manchester, cioè l'attentato al concerto di Ariana Grande, io ero in viaggio, quindi non ho saputo niente fino a stamattina quando ho letto della triste notizia, sono morti più di 20 ragazzi e persone, quindi questa volta oltre a colpire la cultura è stata colpita proprio anche la gioventù, i giovani, questa è una cosa doppiamente triste, è difficile trovare le parole, qualcosa da dire in merito, quello che io penso è che semplicemente bisogna continuare con la musica, quindi la musica non si tocca, bisogna continuare a farla senza paura anche se effettivamente la musica come tutti gli altri grandi agglomerati di persone, come quando c'è un concerto, quando c'è una partita allo stadio, quando c'è qualsiasi tipo di evento che raccolta tanta gente, sono sicuramente situazioni a rischio da questo punto di vista ed è difficile prevedere e controllare, ma io penso che non bisogna avere paura, bisogna continuare a coltivare le proprie passioni, i propri interessi, perché questo è l'unico modo che abbiamo per adesso per combattere questo tipo di becero terrorismo, quindi non scendo ulteriormente in questioni politiche, ma mi limito al territorio della musica e dico che la musica deve andare avanti perché è qualcosa che abbiamo di prezioso e di forte, solo una piccola parentesi perché mi sembrava doveroso, visto che vi parlerò tra poco di cose belle e divertenti che sono state per me, mi sembrava così doveroso nella giornata di oggi un accenno a questa questione. Venendo invece al discorso matrimonio, allora come vedete sono un uomo diverso da prima perché sono costretto da oggi ad indossare questo anello, quindi non sono più una persona libera, è terribile, è come essere in prigione, non fatelo mai, scherzo ovviamente, è chiaramente una cosa di cui sono molto felice. Il giorno del matrimonio è stato molto molto divertente, vi faccio vedere anche la bomboniera che era composta da, va bene, dei confetti, ma soprattutto da questo sottobicchiere realizzato è stata premiatissima l'uteria Fusillo che è la stessa persona, Omar che saluto e ringrazio che ha realizzato anche la mia cigar box guitar che vi avevo già fatto vedere e che tornerà sicuramente in qualche tutorial, in qualche video, quindi abbiamo fatto questo sottobicchiere personalizzato con me e Manu, io che suono la chitarra e Manu che suona la batteria, credo molto divertente anche questo. La giornata è stata veramente molto bella, intanto che dovete scorrere delle foto, abbiamo mangiato, abbiamo brindato e abbiamo suonato soprattutto, quindi c'erano le mie due band i Connection e di Laila che io ringrazio per la partecipazione, è stata una giornata veramente molto movimentata nel senso che la musica ha intervallato un pochino il resto del rinfresco e del ricevimento quindi abbiamo voluto fare qualcosa di estremamente dinamico, non ci siamo fermati mai il risultato è che credo tutti si siano divertiti, quindi ringrazio ancora molto tutti per la presenza e anche voi che avete seguito esternamente facendomi un sacco di auguri, non posso che ringraziarvi davvero di cuore. Dopodiché siamo partiti immediatamente per il viaggio negli Stati Uniti e anche da qui in avanti inizierete a vedere qualche foto, qualche immagine in sovraimpressione. Il viaggio è stato molto bello, abbiamo fatto un sacco di chilometri con la Mustang che abbiamo noleggiato quindi ci siamo presi questa Mustang scapottabile e abbiamo praticamente girato tutto il centro degli Stati Uniti a partire da San Francisco che è una città meravigliosa, passando poi per i grandi parchi come il Sequoia Canyon scusami, il Sequoia National Park dove ho visto il generale Sherman che è l'albero più grande e imponente del mondo poi siamo andati avanti verso la Death Valley, il Bryce Canyon, il Grand Canyon, tutti i posti incredibili la Monument Valley che forse è il posto che è stato più impressive, direbbero gli inglesi, quindi più impressionante appunto c'è anche la parola italiana. Veramente ci è piaciuto tantissimo, abbiamo incontrato anche dei nativi americani, degli indiani ed è stata anche questa un'esperienza molto toccante, per poi dopo rientrare e tornare verso la costa, quindi verso Los Angeles e concederci l'ultimo paio di giorni di relax sulla spiaggia di Los Angeles e devo dire che è molto bello siamo stati a Hermosa Beach, una località molto molto bella, non ero mai stato sull'oceano da quelle parti quindi davvero un'esperienza fantastica, ce la porteremo sempre nel cuore quindi spero che da alcune di queste foto abbiate potuto apprezzare un pochino anche voi la bellezza di questi luoghi so che tanti di voi ci sono stati, tanti mi hanno scritto Claudio, sono stato anche io da quelle parti un viaggio indimenticabile, quindi se ci siete stati sapete di cosa si tratta e se non ci siete stati non posso che augurarvi di avere la possibilità prima o poi di andare a visitare questi luoghi meravigliosi l'America è fantastica, ci sono anche alcune cose chiaramente controverse del loro stile di vita, del loro atteggiamento, basti pensare per esempio alla questione delle armi che sono molto diffuse, della caccia che io non amo particolarmente ma in alcune, anzi non amo per niente ma in alcuni luoghi è ancora consentita quindi ci sono delle cose controverse anche la loro alimentazione stessa insomma l'obesità negli Stati Uniti è un problema e questo è legato anche proprio al loro stile di vita però sono anche patria di grande arte, di musica, di ricerca, di bellezze naturali come io non ho mai visto da nessun'altra parte quindi è un paese che bisogna, che va amato per tutto quello di bello che può offrire infatti noi lo amiamo, basti pensare anche per quanto riguarda la chitarra quanto ci ha dato l'America sia dal punto di vista dei musicisti che anche degli strumenti ok? Ecco, detto questo passiamo ora alle novità che ci riguardano quindi io sono tornato e sono sicuramente carico come avrete notato purtroppo la preparazione per il corso rock intermedio è slittata perché ho avuto alcune settimane, 3-4 settimane tra matrimonio e viaggio che veramente mi hanno assorbito a pieno quindi ho dovuto un pochino fermarmi ma da domani riprendo a pieno regime quindi io credo che nell'arco di 2-3 settimane avremo finito di realizzare il corso quindi entro un mesetto massimo il corso verrà pubblicato e sono sicuro che sarà di vostro interesse perché ho messo dentro veramente molte cose interessanti ve ne avevo già parlato e quindi chitarra ritmica, chitarra solistica ma anche e soprattutto una parte legata alla strumentazione come gestire la strumentazione e come gestire l'effettistica ma arriveranno tanti video e tante risorse a spiegarvi meglio i contenuti di questo video ecco per quanto riguarda i tutorial allora abbiamo pubblicato ieri un tutorial tra l'altro estratto invece dal corso Guitar Gym con un'idea di chitarra bluegrass se non l'avete visto andatevelo a vedere quindi è su YouTube e sul sito c'era una lezione con sia la parte ritmica che la parte solista di un brano bluegrass abbiamo pubblicato anche come sempre nell'area didattica anche la tab e la backing track se non mi ricordo male settimana lunedì questo, di prossimo, pubblicheremo invece un tutorial su Purple Rain di Prince quindi arrivo praticamente con un anno di ritardo a tributare il grande artista scomparso ma lo facciamo con questa parte di chitarra bellissima quindi Prince, grande artista, grande cantante ma anche grande chitarrista lo andiamo a tributare con questa lezione che arriverà appunto lunedì il lunedì successivo se non mi ricordo male ci dovrebbe essere un'altra lezione con ospite Nico Menichini degli schitarristi quindi ritorniamo ancora con questa strana coppia e parleremo di improvvisazione con alcuni tricks che ci darà Nico su questo argomento mi sembra che le lezioni che facciamo con ospiti siano particolarmente apprezzate da voi quindi andiamo avanti anche con questo anzi sono stato contattato proprio mentre ero negli Stati Uniti da un grande personaggio da un grande chitarrista di cui per adesso non vi rivelo il nome ma mi ha fatto molto piacere perché mi ha riempito di complimenti e spero che anche con lui riusciremo a vederci a fare qualche cosa insieme perché sarebbe veramente un grande onore e credo qualcosa di molto interessante anche per voi che seguite e poi i prossimi tutorial non me li ricordo più perché sono ancora un pochino per aria dal rientro dal viaggio comunque per le prossime due o tre settimane vi ho detto un pochino quello che bolle in pentola quindi passiamo veloci alle risposte alle vostre domande anche perché sono ancora tante come sempre allora Rick Mara mi chiede cosa ne pensi di Mark Knopfler ma è una domanda che diciamo rispondo però voglio dire ho già detto tantissime volte che è uno dei miei chitarristi preferiti ed è uno di quelli che mi ha influenzato di più soprattutto dal punto di vista melodico quindi cosa ne penso di Mark Knopfler è che è un grandissimo chitarrista con un grande tocco e soprattutto che ha un senso melodico veramente eccezionale migliore di chiunque altro Francesco Benedetti potresti fare un video nel quale spieghi i tipi di sound delle varie marche delle varie chitarre allora ho appena fatto di recente un video dove parlo appunto di questo dei modelli di chitarre soprattutto però divisi tra acustiche classiche però anche delle differenze tra le elettriche fan tipo Stratocaster, le elettriche tipo Les Paul quindi se non l'hai ancora visto Francesco vatti a vedere questo video e per quanto riguarda altri video più specialistici ne faremo e arriveranno sicuramente il nuovo corso rock intermedio parla anche di questo quindi si tratterà diffusamente anche di strumentazione Danny Ross, scusatemi il telefono mi suona un attimo rimanete lì eccomi scusate mia mamma che mi telefona per sapere come sto se sono tornato vivo dagli Stati Uniti sì mamma sono tornato vivo allora dicevamo Danny Ross mi chiede quando farai un tutorial con la cigar box guitar? abbiamo accennato poco fa arriverà presto qualche video, qualche tutorial anche se non so chi poi ha a disposizione una cigar box guitar quindi un video, un tutorial lo farò sicuramente però bisogna vedere a quanti poi dopo interessa l'atto pratico Who in the side dice probabilmente riferendosi al mio commento della puntata precedente di Ve le suono è giusto che Gilmore, Slash e Page siano più famosi degli altri perché hanno scritto delle canzoni più belle Frank Marino che è un chitarrista che io avevo citato è un mostro di tecnica ma che canzone ha scritto? sono d'accordo con te fondamentalmente questo è un motivo ma io quando parlo appunto di chitarristi sopravvalutati mi riferisco all'approccio non limitiamoci a conoscere i soliti 4-5 nomi ma andiamo a scoprire anche altri nomi meno conosciuti perché molto spesso meritano faccio un esempio Johnny Marr che è uno dei miei chitarristi preferiti non è conosciutissimo da tutti eppure ha scritto delle grandi canzoni con gli Smiths e ha scritto delle grandi parti di chitarra è un chitarrista eccezionale quindi non limitiamoci sempre agli stessi Salvatore Piras congratulazioni per il matrimonio buon viaggio potresti portaci qualche curiosità musicale dagli USA allora Salvatore sono andato una sera a San Francisco a sentire un gruppo blues quindi non una novità ma una conferma sul fatto che su questo genere musicale negli Stati Uniti sono veramente avanti anni luce perché è stata una serata pazzesca in un club un livello veramente dei musicisti veramente incredibili quindi è stata una serata fantastica è il loro genere il loro mondo ed è difficile veramente avvicinarli erano dei bianchi forse tranne il batterista che era di colore ma fondamentalmente il vero senso il vero spirito del blues Gabriele Lobartolo Claudio mi aiuti non so come trovare gli accordi in una canzone la tonalità non so come fare a prevedere gli accordi ma abbiamo già fatto Gabriele dei video su questi argomenti c'è un video in cui spiego come trovare la tonalità ad orecchio e ci sono poi dopo c'è un ebook mio che si chiama Teoria per chitarra in parole semplici avvicinarsi all'armonia che parla di come prevedere gli accordi all'interno delle tonalità e c'è anche il mio corso acustico intermedio che è un corso di livello un pochino più avanzato che però tratta proprio in modo specifico il fatto di come prevedere di come capire perché gli accordi stanno all'interno delle canzoni e in che modo ok? quindi abbiamo già parzialmente anzi già piuttosto approfonditamente trattato questi argomenti ma evidentemente ci torneremo anche con dei video magari più mirati e più a fuoco qui su YouTube Maurizio Leonardo Solfietti Claudio ma è ancora la Rickenbacker che differenza c'è con le altre elettroacustiche ho ancora la Rickenbacker anche se la Rickenbacker è di proprietà ufficiale di mio fratello quindi ce l'ho avuta qui fino a poco tempo fa adesso la ripresa lui poi me la ridarà è uno strumento eccezionale sicuramente non è uno strumento che va bene per fare qualsiasi cosa io per esempio non la userei mai per suonare del blues o per fare degli assoli rock o cose del genere va bene per fare delle parti cosiddette jingle jangle quindi con tutti quegli arpeggi come lo usavano fondamentalmente i Beatles o i Birds o i Ram ok? è una chitarra che io utilizzerei per fare questo ha un suono molto grosso ha un suono molto presente molto particolare ecco non è una chitarra fondamentalmente da blues da assoli da bending va bene per fare accompagnamento per fare tutte queste cose ma è una chitarra che io adoro ed è una chitarra fantastica Nicola Fabri credo N Fabri credo che si chiama Nicola ma non ne sono sicuro perdona mi saluti ti saluto ciao cosa ne pensi del dark country o del western rock? allora ignoranza mia perdonami perdonatemi non so che cosa sia il dark country mi andrò a informare anche perché non mi sono preparato e non mi preparo queste risposte quindi rispondo in tempo reale leggo le domande quindi non so che cosa sia il dark country mi andrò a informare e del western rock mi piacciono mi piacciono assolutamente soprattutto dal punto di vista chitarristico non sempre amo il country dal punto di vista proprio della canzone dal punto di vista canoro le voci del country non sono esattamente la mia passione però dal punto di vista chitarristico li adoro qualche lezione in merito potremmo farli anche se ripeto non è esattamente il mio genere ma come sapete mi piacciono anche gli strumenti legati al country come il banjo eccetera quindi assolutamente prima o poi li tratteremo Alessandro Tarulli mi chiede se potessi fare un tutorial di questo piccolo grande amore di Baglioni vediamo come sapete non tratto molto la musica pop in senso stretto faccio dei pezzi di battisti ho trattato dei pezzi di battisti perché ci sono anche delle parti di chitarra interessanti questo piccolo grande amore è una canzone che a me piace molto io l'adoro l'ho suonata anche tante volte in spiaggia o a delle feste non ha delle parti di chitarra davvero rilevanti ma non lo escludiamo perché comunque si tratta di un grande artista Raffaele Milella mi chiede cosa ne pensi di Matt Bellamy frontman di Muse potresti fare qualche tutorial dei Muse i Muse mi piacciono moltissimo sono dei fenomeni sono in tre e riescono a tenere in piedi degli spettacoli pazzeschi Matt Bellamy è un chitarrista incredibile canta in quel modo e contemporaneamente suona in quel modo con una strumentazione complicatissima riuscendo a controllare anche tutti i vari effetti i vari suoni proprio della sua chitarra io penso che Matt Bellamy sia un genio sia uno dei chitarristi migliori che ci sono in circolazione tutorial su di loro assolutamente sì magari potremmo trattare Plug in Baby che è una canzone che mi piace molto o anche a Nintendo di quella bellissima ballata con quell'arpeggio di chitarra classica sono due brani che mi piacciono molto poi Paolo Olivieri secondo te l'accordatura dovrebbe essere fatta ad orecchio o con l'accordatore? Questa è una domanda interessante gli standard di oggi ci dicono che ci si accorda ad accordatore elettronico perché dà una precisione che ad orecchio non si può ottenere è anche vero che per esempio in ambito di musica classica ci si accorda sostanzialmente ancora ad orecchio in maniera così tentativa diciamo così spero che nessuno si offenda in questo senso ed è anche vero che tutti i grandi dischi degli anni 60 e parzialmente degli anni 70 sono stati fatti accordando ad orecchio e questo è il motivo per cui si veniva a creare anche quell'effetto un pochino chorus tra gli strumenti perché i dischi di oggi suonano più assettici quelli degli anni 60 e degli anni 70 avevano qualcosa di magico e di speciale anche perché c'era un certo margine di imprecisione sulla accordatura che dava in qualche modo spessore al suono non sto parlando di evidenti scordature che anche quelle si sentono comunque nei dischi degli anni 60 perché per esempio se prendiamo la canzone di Mamas and Papas California Dreaming tutte le volte che entrerà solo di flauto io veramente mi si arrizzano i peli delle braccia perché è clamorosamente scordato rispetto al resto della base quindi negli anni 60 succedeva anche questo però tolti questi estremi quel minimo margine di micro scordatura tra tutti gli strumenti faceva questo effetto chorus che dava più armoni che rendeva il suono più interessante rispetto ad oggi che è tutto invece più preciso quindi non c'è un meglio non c'è un peggio dipende sempre dall'ambito musicale e da quello che si vuole ottenere stoicli spero di aver pronunciato giusto 83 chiede ci applaudo e grazie infinite per rispondere sempre a tutti i nostri commenti cosa pensi delle Gibson Les Paul prodotte oggi con i P90 allora non ho presente le Gibson Les Paul prodotte oggi con i P90 ho presente delle Les Paul prodotte con i P90 ed è un pick up e una soluzione interessante perché si pone un po' a metà strada tra quello che è il single coil e quello che è l'humbucker per determinati contesti l'humbucker è troppo spinto ma il single coil è troppo poco quindi questi pick up come P90 sono una soluzione ibrida interessante in generale tutti i mini-humbucker Pino Mancinelli ho una chitarra classica serie Steve 7 EC cosa ne pensi a riguardo? non ho mai provato questo modello specifico ma io posseggo un Steve modello 8 e sono assolutamente soddisfatto di questa chitarra perché è un strumento eccellente eccezionale devo ancora diciamo suonarla un po' perché è ancora un pochino vergine ma sono sicuro che quando avrò acquistato ancora un po' di musica e di musicalità mi darà sempre più soddisfazioni poi Amorfiti mi chiede tanti auguri per il matrimonio ho ancora nella testa la Route 66 Route 66 che abbiamo toccato nella parte finale del nostro nel nostro viaggio quindi assolutamente un luogo e un percorso magnifico da fare anche per gli avanti della musica Mirko Cancelli auguri per il tuo matrimonio potresti fare un tutorial nel quale spieghi come improvvisare sulle scale diatoniche ho imparato le diteggiature ma ho difficoltà di improvvisare allora immagino che Mirko intenda le scale diatoniche maggiori rispetto invece improvvisare sulle pentatoniche che sono delle scale più tipicamente usate nell'improvvisazione e sì ne potremmo parlare ne potremmo parlare sicuramente anche se tornando un pochino a quello che abbiamo detto di Mark Knopfer che è uno che usa anche molto le scale maggiori tutto sta nel senso melodico quindi più che l'esercizio chitarristico su come improvvisare sulle scale diatoniche quello che va fatto è un esercizio di orecchio il mio consiglio è sempre di cantare 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 quindi fate questa cosa se non l'avete mai fatto tenete una backing track e anziché mettervi ad improvvisare con la chitarra mettetevi ad improvvisare con la voce e quindi cercate di creare delle melodie e dopo successivamente provate a riprodurle con la chitarra ok? questa è la vera chiave per imparare ad improvvisare sulle scale diatoniche maggiori ma sulle scale in generale Stefano Capobianco hai mai valutato l'idea di un corso mini corso su heavy metal? sì Stefano l'ho valutato assolutamente ne ho anche parlato in qualche video il problema è che per realizzare i corsi ci vogliono mesi perché a differenza di altri di altri sono solo io a lavorare sui miei corsi perché ho scelto di essere l'unico insegnante del mio sito di lezionichitarra.it e quindi è un iper lavoro ogni volta che creo un corso bisogna lavorarci per mesi per progettarlo crearlo creare i materiali montare i video pubblicizzarlo quindi sicuramente un mini corso su heavy metal arriverà non so purtroppo dirti quando Rock Frequency mi chiede quale chitarra consiglieresti con un budget di 500 euro per un genere come Pink Floyd? una Stratocaster mi sembra una risposta ovvia 500 euro si può comprare tranquillamente una Stratocaster usata degli anni 80 degli anni 90 messicana giapponese e provandola si può anche imbattersi in strumenti eccellenti perché come abbiamo detto più volte torno a ripetere non esistono consigli sulle chitarre esiste provare le chitarre trovare l'esemplare che fa per noi e acquistarlo The Sound Anatomy mi chiede cosa ne pensi di Paul Gilbert sono stato nella sua masterclass ed è stato eccelso oltre che davvero umile allora io non sono un fan degli shredders non sono un fan della chitarra ipertecnica ma Paul Gilbert è uno di quelli che ho seguito di più perché mi piacevano abbastanza i Mr. Big negli anni 90 quindi l'ho visto più volte dal vivo e sono d'accordissimo sul fatto che sia un ragazzo assolutamente umile e anche un ottimo insegnante ha tenuto conto della sua bravura tecnica spesso chi è bravo tecnicamente non è poi capace di trasmettere invece Paul Gilbert è sia un grande chitarrista che un bravo insegnante e un'ottima e umile persona DB Max mi chiede se ti capita vai a vedere una messa gospel riferendosi agli Stati Uniti guarda immagino che tu non abbia visto che io andavo più che altro sulla costa west la messa gospel è più una qualcosa di tipico magari di New York dove sono stato nel 2012 e sono stato a vedere una messa gospel quindi grazie per il consiglio l'avevo già accettato anni fa DJ Pixel39 Claudio come si passa da suonare così a fare una professione ci vuole visione ci vuole capacità di progettare ci vuole soprattutto idee chiare su quello che si vuole fare quindi musicista ma musicista come quale musicista turnista compositore arrangiatore insegnante quindi la prima cosa da fare è avere le idee chiare e mettersi a lavorare duramente giorno per giorno quindi non esistono trucchi anche per quanto riguarda quello che faccio io alcuni mi dicono ma come hai fatto il modo in cui sei cresciuto su youtube è misterioso hai usato dei trucchi no signori non ci sono trucchi c'è soltanto giorno per giorno lavorare tantissimo per anni in questo modo arrivano i risultati comunque magari torneremo anche su questi argomenti Dovresti Destir chiede dovresti fare un video sulle chitarre che consigli per fascia di prezzo questo potrebbe essere anche interessante perché in effetti diciamo almeno avremmo questo dettaglio legato proprio al tipo di budget Cesare Francesco Riggi cosa ne pensi di Slipknot e dei loro chitarristi Jim Root e Mick Thompson non li conosco abbastanza per poter valutare so che Mick Thompson è un chitarista piuttosto famoso e stimato però ho presente benissimo che sono gli Slipknot ma non conosco abbastanza la loro musica per dare dei giudizi Manuel qual è la tua canzone preferita dei Doors potresti fare una lezione sul tapping allora tornando alla seconda parte della domanda la lezione sul tapping è già fatta quindi vi chiedo cortesemente quando fate le vostre domande e mi chiedete di realizzare una lezione verificate prima che io non l'abbia già fatta perché basta andare su YouTube e digitare cicolin tapping e trovate la mia lezione sul tapping e poi basta andare sulla pagina dell'indice completo delle lezioni su lezionechitarra.it e trovate archiviate per argomento tutte le lezioni quindi vi lascio come sempre il link di questa pagina nella descrizione del video qui sotto andatevela a vedere così potete trovare tutte le mie lezioni per quanto riguarda la mia canzone preferita dei Doors ce ne sono tante Love Me Too Times Spanish Caravan ce ne sono The Crystal Shape bellissima ce ne sono veramente troppe Moog mi chiede potresti per favore fare un tutorial su Romeo e Juliet di Dire Straits si è già in programma non so quando ma credo nel prossimo lotto di video che registrerò quindi nelle prossime settimane magari lo inseriremo ringrazio ancora tutti per gli auguri per il matrimonio perché nei commenti in mezzo a queste domande c'erano anche tantissimi auguri quindi vi ringrazio ancora di cuore per essere stati così partecipi riguardo a questo momento della mia vita aspetto ansiosamente le vostre domande che mi farete qui sotto a questo video e ci vediamo per la prossima puntata di Vele Suono tra una quindicina di giorni e ci vediamo invece poi per le lezioni costantemente lunedì come sempre su YouTube ciao buona giornata a presto